iscriviti al canale vediamo guff dai non sabate contro il dittatore alt f4 sono la tier list guff ok non è detto che io voglio giocare shiny avendo preso tailante a te non ho perso in uno uu una pubblicità quando arriva tagliata isosted tagliata non è tagliata inghia potevi anche non giocare che cattiveria no vabbè l'avrei giocato anch'io fai più danni attivi prima il buddy interessante questo spot ferizzo perché tailante è buono anche la 24 non è pessima venghia anche lui aveva frettino tutto abbastanza brutto avevo fizzato per un motivo quindi lo accetto posiziono così perché magari può avere accolito mancano elementari pirati meccan secondo me lo fai un paio di turni dopo che hai che hai preso che hai fatto il buddy perché lì è utile e basta che è molto difficile da utilizzare se è proprio davanti a mano si se fai shiny e quindi stai all'uno allora hai hai più possibilità di utilizzarlo l'ho a capire Dai, dai Quel servitore ti porterà più vicino alla vittoria Io ho fatto primo ottavo, primo ottavo, primo ottavo Significa che giochi gridi Bravo, fai bene Gridi è bello Sono pezzi che sostituessi su BG Non lo sapevi onestamente Un'altra vittoria? Fantastico Vende lui per lui Migliore, è obbligato o baffo questo? E faccio a campi Oh, sei in vantaggio! Continua così La sfida dei piedi Non è legnate E tira delle legnate molto grosse, guffe Mannaggia Tira delle botte I turni in cui Lui non mi piace Non credo sia necessario E' un'altra vittoria E' un'altra vittoria E' un'altra vittoria Sto pensando Dove buffare Sotterriamo le ossa Perseveri Lui lo tengo in mano Ok Lui dai 18-20 Lui dipende Tutto da dove attacca Quello l'asso è 24-2 Deve attaccare quello piccolo Ok Buono Buono ma Io devo Devo potenziarmi qui La Gampo Lo so che la Gampo Non capisco come No 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 Fuck. Buona, 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 buona. Il problema è che adesso io vorrei livellare. Sta laggando il gioco in maniera imponente. Cerco di chiudere con Ghoul. Guardate che ho lui. Ciao, ciao, servitore. Mi mancherai. Rumore forno a quanto caso, no? No, devo chiedergli aprire il gioco. Eh, lo counteo. Un'altra vittoria? Fantastico! Torna dagli altri, servitore impavido. Capita! No, taunt, no, taunt. Fuck! Madonnina. Che palia ha preso taunt, sennò... Giocavo in modo molto diverso. Molto bene, molto bene. solidissimo, eh, ho preso un Calegos e basta. Cioè, tutto... Sto facendo la partita semplicemente avendo preso un Calegos. Fine. Io non posso permettermi di rivellare, credo. Devo tagliare lui. Non ha senso fare nient'altro se non questo. tanto, tanto taunt di c'è scuro, non glielo dover mai. Ma soprattutto c'è Sho, c'è Vol'jin qui, e con Teo Vol'jin, il veleno nostro di lui non si avrà niente. Vado a usare l'HP, è un po' weak. Gemme, gemme. Dove le metto? Posso mettere su questo. Splitto un po' di gemme, va bene così. Eh, sei a Venadina, è certo. È certo. Sei a Venadina. La Sub World? Eh. Beh dai, già oggi abbiamo avuto l'opportunità di giocare insieme. Secondo me è figo l'appuntamento settimanale col tuono in cui si fanno le lobby insieme. Mi piace. Che vittoria impressionante! Che vittoria! Dovevo prima fare HP, prima di mettere una dina Beccato, però però io ho quella chance su 4 Perchè la Furion su Battlekai? E' meglio la Furion su Battlekai, scusatemi È Divine Shield, è la Furion meglio dei Margadoni, sono d'accordo Mettere il Taunt per i miei seguiti nella dina? No, perchè lui adesso ci gioca a Torno Chiudo di lui Chiuderebbe quest'Atacca Ok, io viiterò questo attacco decideva tanto chi attaccava prima più che altri ho attaccato prima io implacabili oggi primi con guffe